Gentili telespettatori, buona giornata. Arriva un altro professore contro Giorgia Meloni. Incredibile. Questo professore, professor Guido Saraceni, pubblica su Facebook il libro di Giorgia Meloni e il suo libro. Il libro di Giorgia Meloni e Io sono Giorgia, mentre quello suo è l'oceano in una goccia. E scrive così. Devo aggiungervi qualcosa? Credo che sia sufficiente avervi dato la notizia così com'è. Non aggiungo altro. Sarebbe assolutamente superfluo tutta la mia solidarietà, come sempre, alla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Arrivederci a tutti.